ok amici, eccoci a questo ennesimo tutorial oggi vedremo come installare App Inventor su una macchina con Ubuntu perché Ubuntu? Secondo me potrebbe essere un'ottima idea avere un'installazione di Ubuntu per essere utilizzata appositamente con App Inventor il motivo principale è quello della semplicità di installazione dei driver ADB infatti tramite Ubuntu abbiamo molti meno problemi di riconoscimento del telefono da parte del nostro PC l'installazione è abbastanza semplice, Ubuntu è un sistema operativo gratuito quindi non ci costerà niente installarlo possiamo addirittura installarlo in una macchina virtuale come ho fatto io e utilizzarlo in questo modo non avendo alcun problema ed alcuna difficoltà vediamo come si fa l'installazione di App Inventor e la cosa vedrete com'è che è molto semplice allora come l'altra volta iniziamo andando sulla pagina di App Inventor ed andiamo a vedere quali sono le istruzioni che ci fornisce Google quindi andiamo su setup e andiamo a vedere anche questa volta il primo passo sarà quello di fare il setup del nostro computer cosa ci serve? allora intanto in questo caso vediamo che Ubuntu dalla versione 8 in poi è supportato poi serve un browser nel nostro caso sarà Firefox e poi ovviamente serve Java allora come l'altra volta proviamo a vedere se noi abbiamo per caso già installato Java aspettiamo un attimo e qui ci dice che qualcosa non va, Java non funziona allora a questo punto la prima cosa da fare è quella di andare ad installare Java lui dice che possiamo installare Java dalla pagina ufficiale di Java.com qua dice Java U scarica oggi possiamo provare ad andare a vedere questo download gratuito di Java però vediamo che per Linux le istruzioni sono un attimino più complicate nulla di impossibile però quello che vi consiglio di fare io visto che stiamo appunto usando Ubuntu è usare il suo sistema di gestore pacchetti vedrete che in questo modo l'installazione è molto semplice può essere che vi chieda la password che avete messo quando avete installato Ubuntu partirà l'applicazione gestore di pacchetti si chiama anche Synaptic Package Manager in inglese se avete l'installazione inglese di Ubuntu un attimo che fa la sua ricerca ed eccoci al Package Manager allora qual è qua il trucchetto andremo a ricercare i package che si chiamano SanJava6 ecco qua ci viene mostrato questo filtro noi andiamo ad installare SanJava6 Plugin selezioniamo Installa perché seleziono il plugin? perché vedete che automaticamente oltre al plugin lui installerà i binari e la JRE che è proprio quella che ci interessa selezioniamo e poi dobbiamo cliccare su Applica le modifiche qui ci dice che da installare sono questi tre package sono proprio quelli che vogliamo e che deve praticamente scaricare tot megabyte ora io qua li avevo già scaricati in precedenza e poi disinstallati quindi in questo caso ce li ha già sul disco fisso nel vostro caso può essere che debba scaricare da internet un po' di files se vogliamo possiamo andare a vedere i dettagli di quello che sta facendo queste sono un po' delle informazioni tecniche che a voi non interessano comunque vedrete che in pochi minuti vi installerà la Java 6 Runtime Environment la JRE aspettiamo un attimo vi faccio vedere anche qui ecco potrebbe essere la prima volta che vi venga una maschera in cui bisogna accettare una licenza di Java io l'avevo già fatto quindi non lo vediamo più comunque nessun problema ad accettare questa licenza sta andando avanti con l'installazione alcune operazioni che deve eseguire continua ad installare tutto in automatico ovviamente noi non interrompiamo non facciamo nulla aspettiamo solo pazientemente la fine del processo qua possiamo vedere o non vedere questi dettagli dipende come siamo noi curiosi alla fine avviene modifiche applicate quindi tutte le modifiche sono applicate possiamo chiudere questa finestra a questo punto possiamo chiudere la finestra lui qua fa refresh dei pacchetti che sono installati e dopodiché questo vedete che abbiamo dei quadratini verdi che ci dicono che l'environment è installato correttamente torniamo un attimo al nostro browser firefox a questo punto torniamo su setup di app inventor proviamo a rieseguire la java test page io ve lo apro in un nuovo link per vedere ecco qua your java is working l'ultima versione di java è installata quindi questo è fatto l'altro passo da fare è provare ad andare a lanciare l'app inventor java test link anche questo qui lo apriamo in un nuovo tab qua dice che il browser sembra sia configurato correttamente proviamo a lanciare questo programma questa è la finestra che si apre quando vuole lanciare dei java weblet lasciamo il suo valore di default java 6 web start premiamo ok scaricherà questo file del notepad il nostro famoso notepad che avevamo visto anche con l'installazione di windows xp e dopo qualche secondo seconda sempre della potenza del nostro pc comparirà il notepad scritto in java ok la versione di java è corretta a questo punto possiamo chiudere chiudiamo anche la finestra di download chiudiamo questa e torniamo al setup di app inventor quindi sembra che la parte di java sia a posto ora ovviamente dice che se questi passi non funzionano non bisogna andare avanti non vedo perché non dovrebbero funzionare comunque in caso ci fosse qualcosa che non va provate a riseguire tutti i passaggi attentamente ora vogliamo andare a vedere le istruzioni per l'installazione di app inventor su ubuntu allora per i sistemi che possono installare i package debian in questo caso il nostro sistema ubuntu è uno di questi basterà scaricare app inventor setup installer debian package quindi semplicemente clicco su questo link e inizierà ecco possiamo direttamente dargli il comando di aprirlo con ubuntu software center ora come il pacchetto è abbastanza corposo sono 86 megabyte metto un attimo in pausa e ci risentiamo quando ha finito di scaricare questi 82 megabyte ok riprendiamo che mancano pochi secondi al termine del download di questo pacchetto di installazione andiamo a vedere cosa succede ecco qua ha finito di scaricare i file mi apre ubuntu software center e dice praticamente che andremo ad installare app inventor setup clicco installa ancora una volta servirà un attimino di tempo e servirà ancora la password che abbiamo nel nostro sistema questa password l'abbiamo messa durante l'installazione di ubuntu se non l'abbiamo messa non ce la chiederà ovviamente ecco qua vediamo la fase di installazione abbastanza rapida anche questa volta ok l'installazione è terminata possiamo chiudere ubuntu software center possiamo pulire la lista chiudere qua e ci dice che praticamente l'installazione di app inventor viene posizionata in questa cartella usr google app inventor setup questo poi ci tornerà utile dopo anzi scusate ma la nuova installazione è in usr google app inventor commands for app inventor bene a questo punto possiamo andare a vedere come fare il setup sul nostro telefono la procedura è esattamente la stessa che avevamo visto l'altra volta quindi non la sto a ripetere praticamente dobbiamo ricordarci di andare in impostazioni andare su development e flaggare il check su usb debugging la cosa bella come vi dicevo è che i driver adb che sono installati in questo caso con ubuntu sono molto più universali funzionano praticamente con tutti i telefoni quindi anche col mio telefono per esempio il blade vanno al primo colpo senza dover installare quelli forniti dalla ZTE ok quindi adesso possiamo lanciare il blocks editor e provare a far funzionare la nostra prima applicazione apriamo di nuovo la famosa la famosa pagina con la demo quella del gatto e vado su my project andando su my project entro con il mio account google se dovesse chiedermelo se non siamo già dentro ok e praticamente raggiungiamo il design editor qua avendo solo un progetto me lo apre subito poi di nuovo opens block editor anche qui ci chiederà come aprire questo file noi selezioniamo san javasix web start questa volta ci mette un po' di più perché il blocks editor è un po' più corposo del notepad che avevamo visto prima scarica questa piccola applicazione eccoci qua e poi potrebbe chiederci anche se vogliamo accettare le autorizzazioni per questa applicazione java ecco qua questo messaggio sulla sicurezza posso anche dire che mi fido di san e lo voglio sempre eseguire i programmi firmati da loro continua con l'apertura del blocks editor ancora qualche secondo di pazienza ecco qua che sta aprendo il blocks editor perfetto ora quello che dobbiamo fare è collegare il nostro cellulare voi ancora non potete vedere comunque io collego il cellulare devo verificare che sullo schermo del cellulare venga scritto usb collegato e debug usb collegato e a questo punto vedere su connect to device eccolo qua quando abbiamo tutti questi punti di domanda abbiamo un piccolo problema facilmente risolvibile un problema di permessi della macchina di ubuntu cosa dobbiamo fare dobbiamo lanciare un terminale che trovo su accessori si avvia il terminale eccoci qua e poi dare questi comandi allora su dsu trattino potrebbe chiedervi la password dipende da quanto tempo l'avete inserita poi cd usr google questa è la directory di installazione di google app inventor commands for app inventor andiamo a vedere cosa c'è dentro questa directory abbiamo il comando adb come abbiamo visto l'altra volta se noi diamo adb devices mi dice che non ho il permesso di usare questo device mentre se io allora cosa devo fare devo restartare adb devices adb restart ecco qua restartiamo proviamo a ridare adb devices e vedete che a questo punto ho blade device sul blocks editor connect to device a questo punto ho il blade cliccando parte la connessione verso il mio telefono e mi scarica l'applicazione che ho appena creato verso il mio telefono per poterlo testare correttamente la procedura come vedete secondo me è più semplice di quella che abbiamo in windows questo errore dei punti di domanda non è detto che vi venga sempre dipende un attimo dai permessi che avete settato sulla vostra macchina ubuntu provate a vedere voi come preferite lavorare per questo tutorial è tutto ci sentiamo alla prossima